Musica Ciao a tutti ragazzi e benvenuti e ben ritrovati Rieccoci su FTL ragazzi stiamo per partire Nuova partita Ok ragazzi posso capire che questo non è Minecraft Però è sempre un bel gioco cavolo ragazzi Non lo disprezzate ne vale la pena No perchè veramente ragazzi su questo gioco ho preso il primo dislike del mese E' stato veramente triste come cosa E' rimasto veramente male No a me piace ragazzi Mi spiace anche se c'è il dislike lo porto avanti Ragazzi non vi preoccupate Non è importante che me lo giudicate se vi piace o no Solo per portare qualcos'altro sul canale Non posso fare solo Minecraft Minecraft lo porto tranquilli Non lo abbandono Sarò a fare sempre Minecraft Questo è solo un giochino così per passare il tempo Allora andate avanti Fuoco Fuoco Open fire Tutte le armi fuoco su questo settore Aia Quel laser mi ha fatto male sinceramente l'ho sentito Ho missato un laser Rimasto un HP perchè ho missato il laser What the fuck Ok fuoco sui motori Autofire attivo Fuoco Ok prima minaccia sconfitta Ragazzi al volo Ammazzato Scrap Risorse Metal Tutto distra Distra Andiamo Quando c'è scritto distra Solo di big money Eccoci Send your crew in a shuttle to airport to the fire No che vuoi Che vuoi? Ah Attracchiamo Ok Jump Ok ragazzi Praticamente Ho trovato una stazione abbandonata Che c'erano degli uomini in difficoltà Io dovevo scegliere se far scendere il mio equipaggio e salvarli O attraccare con la nave e portarli via Ho attraccato con la nave e l'ho portati via Mi hanno dato risorse a posto Tutto risolto a posto ho vinto GG Andiamo avanti tutti spianati a massima velocità Verso la nostra vittoria Scanning range Non c'è un cavolo Dice C'era una nave bloccata entro l'anomalia Ha aiutato una mano Mi ha dato anche risorse GG Ragazzi Aiutare gli altri A volte frutta Aiuto sì Porcaccia no Quando lo aiuti in questo modo è brutta Perché ti vengono contro contro le barche della federazione Con 8000 HP Scudi Armi Fotonici Missili Lanciarazzi Fuoco sul sistema armi Tutto Devo scelto agli sistemi armi al volo Per impedirli di sparare Ecco Ho missato tutto Su ossigeno Ragazzi Ossigeno danneggiato Ripara 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 l'ossigeno Ma tipo Nao Ma tipo in questo preciso Nano di secondo Nano di secondo No Sto finendo l'ossigeno Non ci stiamo regolando qui Ok Tenendo tutte le armi su questi bersagli Continuate a sparare senza sosta Fuoco sugli scudi Ok Ossigeno riparato Tu puoi tornare Allarmamenti Vai Vai a calibrare le armi Tu spara sull'ossigeno Il sistema missili Tu puoi anche spegnere Tanto sparo qui Fuoco E muore 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 Morto ragazzi Mamma mia Ho spaccato un barcone Guarda Ma hai fatto Lo scuso fuori dell'ossigeno Vabbè Mi ha dato un sacco di roba però Ripara Ripara l'ossigeno Appena trovo un mercato Mi riparo la barca Ecco lo mercato Store Mi piace questa cosa dello store Ok Bene 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 Allora Drone control Posso controllare i droni ragazzi Oh mio dio Questo è qui Oppure comprare l'equipaggio Oppure Oppure che altro posso fare Cos'è qui Vabbè La solita roba Vendi Non mi frega niente Guardate cosa ho imparato ragazzi Se io vado qui C'è store E anche ship E qui posso fare gli upgrade della nave Accetto Quindi io devo fare Store E mi prendo il drone control Ok E adesso vado su ship E faccio l'upgrade dell'energia Che costa 20 E poi costa 30 Che non ho E fino a qua Accetto No ho fatto i danni No ho fatto i danni Ho potenziato gli scudi Dove potenziare il power principale Che era questo qui Questo è il power principale Vabbè gli scudi Ho potenziato Chi se ne frega Potrà servire un giorno Un'altra cosa che posso fare È riparare tutto Fix il 18 Non posso Fix il 1 1 1 1 Ok Ho riparato quello che potevo ragazzi Ho comprato i droni Che sono tipo P E posso andare avanti Jump Torniamo verso Di qua Vediamo dove mi porterà questo salto In questo pianeta sconosciuto celestino Attacca Certo che ti attacco Quindi spacco Adesso i droni Droni online Guardate ragazzi Un drone difensivo Che non fa un cavolo A che serve quel coso Posso spegnere l'infermeria Per mettere online le altre armi Interessante questa cosa Pam Offline doppia arma con missili Ma che fa sto drone A che servi scusami Che fai Ah distruggi i missili Ah ma vale niente serve a niente Guardate posso pure togliere A che servi A niente Inutile proprio Ma arato E blocca i missili Praticamente serve solo contro navi Che usano i missili Questo non lo sa i missili Investi in testation Drone all repair Ragazzi Cos'è Una manna dal cielo E il drone che ripara la struttura Guardate mi sta riparando Addio mercato C'è il drone che mi ripara adesso È finita C'è il mio drone GG ragazzi Ora c'è il drone personale Che mi ripara Meglio di così Andiamo avanti ma Prossimo pianeta Pianeta rosso Ok Artemis Oh Che cavolo De nave brutta è Una razza di sgorbio Col polipo attaccato sopra Ma quello è un polipo Mio dio Attack the period Ok Continua Non hanno missili questi Quindi fuoco su tutti gli armamenti Online tutto acceso Pronti al fuoco Scudi Require system upgrade Ah ok Interessante questa cosa Devo fare un altro upgrade qua Poi lo faccio appena trovo un mercato Ok I suoi sistemi di armi sono offline Adesso sparo con i missili sui scudi In modo che disabilito gli scudi E continua a sparare con i laser Sul sistema di armamenti In modo che lo metto offline Fuoco sul sistema di armi Nemico distrutto Arato Spaccato Missili drop art Scrap Missili drop art Scrap Ah Bam Ok ragazzi Sono all'uscita Però prima di uscire Voglio fare un salto A quel sistemino accanto Perché mi intriga sinceramente Continua 5 missili Per 15 scrap Oh 15 missili Per 15 scrap Mmm No vabbè Ignore Jump Andiamo a vedere in questo piccolo sistemino Qui accanto Cosa c'è Magari c'è qualcosa di Mmm Vediamo Vediamo Oh Un'altra nave bagarozzo strana Ok Ok Quindi si può combattere Vai Sparo sul sistema di armi Ancora tutto su Tutte le armi sul sistema di armi Proterfoco Open fire Cos'è questo? Un laser E un canone ionico Quindi io difese missili non mi serve Quindi questo me lo tengo per la prossima volta E gli ho fatto fuori tutto il sistema di armi con un colpo Ragazzi Avete visto che focus fire Tutti i laser e missili One shotato praticamente E questo Oh Questo da dove è uscito? Ah Questo è quello che mi ha dato prima come ricompensa Bella a posto Ok C'è un bagarozzo che si è addetto ai motori Vai bagarozzo Lavoro ai motori Mentre io ho shot tutto La nave è stata Ha shotato quell'altro Però ormai sono un boss Questo gioco ragazzi Spacco tutto Torniamo nel sistema d'uscita E adesso io me ne vado Ciao Kiki Ce ne andiamo nel prossimo settore ragazzi E vi saluto Ciao a tutti ragazzi E al prossimo episodio Non lo perdete Engie controlle Pirate controlle Dovado? Engie pirate Engie pirate Engie pirate Engie Vado in Engie ragazzi Ciao a tutti E al prossimo episodio Ciao Jump FTL online Ciao a tutti